e passeremo poi nello specifico ad analizzare i punti più importanti relativamente alle statistiche delle singole campagne che inviate poi andremo ad approfondire le statistiche di lista per vedere quali sono i KPI che dobbiamo tenere d'occhio e poi vediamo quali sono le opportunità di sfruttamento dei dati che appunto si evincono dalle statistiche innanzitutto perché è importante conoscere le statistiche collegate alle vostre campagne email allora è una cosa che può sembrare banale in realtà almeno per esperienza personale molti miei clienti hanno questo problema sanno che devono fare email marketing lo fanno e ci mettono anche impegno poi però il tempo per controllare, analizzare, capire com'è andato l'invio analizzare le statistiche di tempo non ce n'è e quindi solitamente la console for them consente di avere un sacco di dati che però poi non vengono utilizzati né sfruttati a dovere quindi è qui che appunto voglio porre l'attenzione perché è importante conoscere le statistiche relative alle nostre campagne email innanzitutto servono a capire se stiamo andando nella giusta direzione è inutile preparare una newsletter a settimana inviarla e non preoccuparsi di andare a vedere che cosa succede all'interno della lista e soprattutto nel momento in cui guardiamo le statistiche e capiamo come sono andati gli invii qual è il tasso di apertura se ci sono utenti che aprono di più o di meno questo ci aiuta ad ottimizzare tutti gli invii successivi un altro punto non scontato del perché le statistiche di campagna sono importanti è per mantenere alta la reputazione di invio la reputazione di invio è un concetto con cui diciamo molti di voi non hanno familiarità ma è fondamentale quando si fa attività di email marketing sappiate che tutto ciò che fate a livello di email marketing quindi gli invii che fate il contenuto delle email che inviate la tipologia e il contenuto delle liste che utilizzate per inviare quindi che esse siano ricche di utenti attivi piuttosto che di indirizzi non esistenti tutto questo impatta su una reputazione di invio ovvero impatta sull'immagine che i vari provider di posta hanno di voi quindi se io invio con infochiocciola fordem.it una campagna e ci sono molti utenti che ad un certo punto si disiscrivono segnalano spam non aprono più le mie email beh il client, il provider di posta che può essere gmail o libero della situazione dice benissimo fordem.it non sta facendo un'attività in maniera corretta sta inviando su delle liste sporche vuol dire che la prossima volta una parte delle sue campagne le consegnerò direttamente nella cartella della posta indesiderata quindi capite che inviare una campagna e danneggiare la reputazione di invio ha un impatto appunto abbastanza importante perché poi se la reputazione è negativa non ha molto senso continuare a fare attività di email marketing visto che le nostre email verranno consegnate nella posta indesiderata dall'altro lato fortunatamente la reputazione di invio è un concetto dinamico significa che il provider di posta non diciamo vi etichetta da quel momento in avanti diciamo come un cattivo sender ma nel momento in cui voi vi riabilitate quindi cominciate a rilavorare su delle liste pulite gli utenti aprono, non si disiscrivono, non segnalano spam ecco che la vostra immagine si riabilita agli occhi del service provider che quindi diciamo avrà un occhio di riguardo per le vostre email e quindi le consegnerà in inbox ultimo punto per cui è importante conoscere le statistiche collegate alle vostre liste e alle vostre campagne email è legato al fatto di ottimizzare tutto ciò che è successivo all'invio della campagna diciamo più in generale nel mondo digital il lavoro si compone del 20% diciamo di esecuzione e dell'80% di ottimizzazione dopo un po' che inviate le vostre campagne email i database cominciano a popolare di dati che sono relativi non solo al fatto che gli utenti si disiscrivono o aprono le vostre email ma sono dati che vi permettono di lavorare meglio di capire quali sono le preferenze dei vostri utenti per capire che cosa preferiscono ricevere e cosa no a questo punto passiamo appunto alle statistiche di campagna e in questo caso mi riferisco alle statistiche collegate alle singole campagne che vengono inviate quindi se in questo momento avete Fordem o comunque una piattaforma di email marketing e se non avete Fordem ovviamente vi consiglio di aprire una piattaforma gratuita per provarlo potete andare tranquillamente in una delle campagne che avete inviato per capire appunto di cosa stiamo parlando allora quali sono i KPI più importanti che dobbiamo tenere d'occhio quando inviamo una campagna quindi inviamo una campagna andiamo a vedere quali sono le statistiche sicuramente il KPI più importante è l'open rate l'open rate si riferisce appunto al tasso di apertura di una campagna andiamo alla slide successiva scusate allora l'open rate perché è importante? innanzitutto diciamo Fordem come altre console vi danno due indicazioni relativamente al tasso di apertura dell'email un tasso di apertura che include tutte le aperture fatte dagli utenti quindi se avete un database di 30 contatti e ogni utente ha aperto due volte la stessa campagna avrete un totale di 60 aperture e quelle sono le aperture totali e poi ci sono le aperture singole ovvero le aperture uniche le aperture uniche invece se avete un database di 30 utenti e di questi 15 aprono almeno una volta l'email le vostre aperture uniche sono appunto 15 da che cosa dipendono le aperture uniche? questa è la parte più importante al momento in cui uno si approccia all'email marketing il primo ostacolo da superare è stimolare l'apertura dell'utente che riceve la nostra email allora le aperture sostanzialmente dipendono da tre fattori dipendono dal server che utilizzate per inviare se il server ha una buona reputazione è più probabile che le vostre email vengano consegnate in inbox dal dominio che utilizzate per inviare il dominio ad esempio si riferisce al fatto che io voglio utilizzare come emittente delle mie campagne l'infochiocciola fordem.it ecco in quel caso se l'infochiocciola fordem.it è un dominio che viene utilizzato spesso gli utenti aprono spesso le email provenienti da quel dominio sono molto attivi, non si discrivono e quant'altro anche il dominio ha una buona reputazione di invio e quindi è un punto in più per consegnare le nostre email in inbox e infine l'email l'email a seconda di come è costruita potrebbe far alzare le antenne dei filtri anti-spam vi faccio un esempio pratico se inviate un email in cui scrivete parole pericolose come ad esempio Viagra piuttosto che apre subito questa email pacco per te o le solite email di spam che ricevete nella casale di posta ecco in quel caso i filtri anti-spam sono abituati a gestire questa tipologia di email e le riconoscono subito e quindi potrebbero etichettarle come spam e quindi relativamente al contenuto dell'email è anche importante l'oggetto che utilizzate nell'email l'oggetto non deve anche in questo caso contenere parole pericolose dove per parole pericolose intendo parole utilizzate spesso dagli spammer come ad esempio scrivere tutto l'oggetto in lettere maiuscole piuttosto che utilizzare molti punti interrogativi piuttosto che utilizzare molti punti esclamativi questi sono tutti escamotage che gli spammer utilizzano per far risaltare la loro email rispetto alla nostra inbox per cercare di attirare l'attenzione ancora una volta i filtri anti-spam sono abituati a questa tipologia di comportamenti e quindi li intercettano subito passiamo a capire qual è un buon tasso di apertura dell'email qui diciamo ci sono da fare dei distinguo nel senso che solitamente i clienti mi dicono secondo te le email liste hanno un buon tasso di apertura? dipende, dipende da molte cose ad esempio le email transazionali quindi quelle che riceviamo per capirci con la conferma di iscrizione piuttosto che l'email in cui sono contenute le password per accedere ad un determinato servizio hanno un tasso di apertura dell'80% quindi bad e bene non del 100% dell'80% sono delle email molto importanti vuol dire che gli utenti non aprono al 100% neanche le email che sono reputate molto importanti dopodiché vi dico anche ed è quello che dico anche ai miei clienti il tasso di apertura medio di mercato se lo volessimo considerare tutte le tipologie di campagne che esse siano newsletter, promozioni o altro è intorno al 20% quindi tutto ciò che fate al di sopra di questo numero e se cercate di migliorare, di andare di trovare delle soluzioni per aumentare il tasso di apertura oltre il 20% è tutto di guadagnato considerando che già arrivare a un 30-33% di apertura significa che una persona su tre è interessata alle nostre comunicazioni quindi sicuramente stiamo andando nella direzione giusta che cosa ci portiamo a casa relativamente agli open rate? allora, e mi riferisco diciamo ai box arancioni che trovate più sotto sicuramente se è la prima volta che vi accingete a fare email marketing una buona soluzione potrebbe essere quella di variare l'oggetto email per capire qual è l'oggetto che stimola di più l'apertura rispetto a quello che lo stimola di meno quindi anche in questo caso fate degli abitest o comunque variate spesso l'oggetto e capite qual è il tono di comunicazione il tono di voce che dovete avere con il vostro pubblico di riferimento per capire qual è l'oggetto che spinge di più all'apertura creare un oggetto e un pre-eater rilevante beh, questo va da sé dobbiamo conoscere le nostre liste se sappiamo chi si trova dentro una nostra lista sicuramente per poter stimolare l'apertura dobbiamo creare un oggetto che sia rilevante rilevante significa che quell'email va a risolvere un problema della persona un problema che può essere un problema pratico o comunque un fabbisogno di informazione quindi l'oggetto deve anticipare il contenuto dell'email ma soprattutto deve essere un oggetto che sia rilevante per l'utente finale anche il pre-eater se analizzate la vostra casella gmail dico gmail ma ne potrei dire anche un'altra sapete che quando aprete da browser vedete tre cose vedete il mittente vedete l'oggetto e vedete il primo contenuto testuale che il client riposta trova all'interno dell'email è importante che questo primo contenuto testuale sia scritto in un certo modo non deve duplicare l'oggetto deve piuttosto essere di supporto all'oggetto per stimolare ancora di più l'apertura un'altra cosa importante è quella di tenere d'occhio la reputazione di invio cioè ogni volta che inviate controllate bene se ci sono molti utenti che si sono disiscritti molti utenti che vi hanno segnalato spam lo dico soprattutto per coloro che hanno la lista collegata a dei form contenuti sul sito web perché? perché ad esempio i form sul sito web potrebbero essere oggetto di un attacco da parte di bot che compilano automaticamente il form riempendo la nostra lista di contatti che potrebbero essere non esistenti o potrebbero anche essere esistenti ma gli utenti che vanno a finire nella lista non hanno dato il loro consenso quindi sicuramente e anche nell'ottica del GDPR è molto importante che i form sul sito web vengano impostati in double opt-in in modo tale che l'utente si iscrive riceve un'email che deve ulteriormente confermare a quel punto hai iscritto effettivamente le vostre liste e voi avete la certezza che dietro quell'iscrizione ci sia un utente reale infine, torno a ripetere nell'oggetto e anche nel contenuto dell'email non usate parole pericolose quindi cercate di essere piuttosto laschi soprattutto sui primi invii se dovete parlare di offerte promozioni, sconti lo potete fare quando state inviando su un database che è già abituato a ricevere le vostre email che apre le vostre email a quel punto il provider darà meno importanza alla presenza di queste parole mettiamola così allora c'è un piccolo problema sulla trasmissione del webinar con i nostri utenti alcuni lo vedono alcuni non lo vedono quindi scusiamoci solo con i partecipanti perché effettivamente alcuni stanno cercando di verificare il problema quindi stiamo lavorando sto rispondendo in chat facciamolo presente anche agli utenti avete sentito la mia collega che si sta occupando dei problemi tecnici e ovviamente ce ne scusiamo però quando si utilizzano piattaforme di questo tipo l'imprevista è sempre in agguato in ogni caso il webinar sarà disponibile anche sarà registrato quindi sarà disponibile anche dopo oggi passiamo alla seconda slide relativamente alle statistiche di campagna e parliamo del click rate allora il click rate che cosa significa? il tasso di click sui link contenuti all'interno della nostra campagna va da sé che se abbiamo fatto un'email che è semplicemente informativa e non ha link contenuti ma diciamo il suo unico obiettivo è quello di informare senza richiedere un'azione all'utente va da sé che il click rate sarà molto basso in questo caso stiamo parlando di email sia che si tratti di newsletter sia che si tratti di email promozionali che però contengono dei bottoni dei link che si presume l'utente clicchi per andare ad esempio a visionare un sito web piuttosto che ad acquistare un prodotto sull'e-commerce quindi parliamo di email che contengono link allora in questo caso storicamente si è sempre dato diciamo all'utente il dato cioè piattaforme come Fordem ma appunto anche altre piattaforme storicamente danno il dato relativo al click through ovvero i click unici relativamente alle email recapitate però capiamo bene che non è un diciamo una buona misura di performance perché io posso anche avere inviato 10.000 email ne ho consegnate 2.000 di queste ne hanno aperto una parte in quel caso il click through viene calcolato come i click fatti dagli utenti relativamente a tutte le email recapitate e quindi tutte le email inviate quindi non ha molto senso ha molto più senso guardare il click to open rate ovvero i click unici relativamente alle aperture uniche ok quindi questa misura che quello che è scritto si chiama ctor quindi click to open rate mi dà un'indicazione vera di quanti utenti effettivamente e utenti unici hanno interagito con con le mie email i click servono essenzialmente a due cose cioè tutti siamo abituati ad inserire link all'interno delle nostre campagne per far sì che l'utente appunto li clicchi ed è una cosa banale cioè inseriamo un bottone affinché l'utente vada a finire sul nostro sito web inseriamo un link che lo porti ad un'altra risorsa esterna all'email o a un video su youtube e così via e quella è la prima funzione di un click la seconda funzione per noi marketer ed è importante la seconda funzione di un click serve a esumere un interesse cioè noi possiamo analizzare in aggregato i click che gli utenti fanno sulle nostre campagne per capire come è composto il nostro database per capire se ad esempio gli utenti sono più interessati ad approfondire le newsletter oppure sono molto più interessati quando gli inviamo un'email promozionale con uno sconto del 10% ecco sommando tutti i click insieme e poi Fordem ha degli strumenti apposta per farlo è possibile andare a segmentare il database in base a degli interessi quindi dopo un po' di invi che faccio ad esempio sono capace di vedere se gli utenti sono più interessanti a prodotti di elettronica piuttosto se sono più interessati a prodotti di libreria se sono interessati a giardinaggio e così via a quel punto avere questa informazione mi permette di appunto segmentare il mio database in base agli interessi e appunto inviare comunicazioni specifiche più avanti vediamo come farlo piuttosto se diciamo volete informazioni in questo senso nella sezione Q&A mi fate la domanda e ve lo spiego nello specifico quindi come aumentare il tasso di click allora dopo tutto ciò che abbiamo detto fino ad ora ovviamente la risposta è che i vostri contenuti devono essere rilevanti cioè non solo l'utente deve aprirle perché ha trovato interessante l'oggetto dell'email ma una volta che è entrato nell'email l'oggetto deve essere coerente con il contenuto il contenuto deve avere dei contenuti rilevanti quindi se un link non è rilevante non inseritelo questo è il concetto a meno che non sia estremamente indispensabile non so forse il link alla sezione contatti piuttosto che però io diciamo che il consiglio che do sempre è che le email devono essere estremamente chiare devono avere pochi call to action pochi bottoni pochi bottoni ma importanti perché l'utente è interessato a poche cose se la nostra idea è che l'utente potrebbe essere interessato a 20 cose e quindi gli metto 20 bottoni dentro l'email probabilmente sto sbagliando perché gli utenti non hanno il tempo di leggere tutte le vostre email gli utenti aprono l'email perché hanno trovato un oggetto che gli interessava e se gli interessa quell'oggetto vogliono che all'interno dell'email ci sia la risposta alla loro domanda ok quindi come take away di questa slide che cosa ci portiamo sicuramente dobbiamo creare dei contenuti ingaggianti per i nostri utenti quindi contenuti rilevanti per i loro bisogni per i loro problemi e soprattutto minimizzare link e bottoni statistiche di campagna bounce rate che cosa sono i bounce rate è una cosa che non guardiamo cioè solitamente chi non ha molta esperienza di email marketing non è la prima cosa che guarda mettiamola così i bounce sono le email che diciamo tecnicamente vengono rimbalzate dal server cioè noi spediamo su una lista di contatti se il server non risponde nulla l'email è stata consegnata il server però potrebbe rispondere con dei messaggi di errori dicendo guardate che l'utente sul quale state cercando di inviare l'email la casella non esiste più oppure la casella è temporaneamente piena ecco questi due messaggi sono detti appunto bounce in particolare quando il server risponde dicendo che l'email non esiste più è un hard bounce quando invece il server risponde dicendo che la casella è temporaneamente piena o ci sono appunto problemi di consegna perché il server in quel momento diciamo ha qualche problema o va in errore in quel caso ha un soft bounce vuol dire che la casella email sulla quale stiamo facendo comunicazione esiste però in quel momento non può essere raggiunta perché sono così importanti a questo punto soprattutto gli hard bounce allora gli hard bounce sono importanti perché se non abbiamo raccolto i nostri contatti in maniera consona e quindi ad esempio magari sono indirizzi che abbiamo recuperato tramite internet o è un vecchio database che avevamo che è un database vecchio di 10 anni e vogliamo farci attività sopra beh sappiate che fare attività su un vecchio database il primo problema che comporta è appunto quello di di avere un altissimo numero di indirizzi inesistenti e ve ne accorgete solo nel momento in cui andate a fare la campagna in realtà esistono strumenti per poter pulire i database prima di inserirli all'interno della piattaforma però solitamente diciamo gli utenti non troppo schillati hanno database li caricano provano ad inviarci e poi si accorgono che magari il 20-30% del database in realtà è inesistente la console ovviamente gestisce in automatico tutte queste risposte dei server cioè la console è in grado di recepire il messaggio del server relativamente ad un indirizzo inesistente e a quel punto l'indirizzo viene messo in soppressione questo però non toglie il fatto che l'indirizzo inesistente è stato rilevato ora se facciamo attività su moltissimi indirizzi inesistenti il provider di posta di nuovo se ne accorge e dice com'è possibile che info.4dem.it ha inviato su 10.000 persone e di queste 2.000 non esistono o ha raccolto questi contatti in maniera non corretta oppure è un vecchio database in entrambi i casi l'attività che sta facendo non è corretta perché è assimilabile a spam o comunque i contatti contenuti si presume non abbiano dato l'autorizzazione e quindi anche questo va ad impattare sulla reputazione di invio quindi oltre alle disiscrizioni anche il fatto di avere una lista sporca può impattare sulla reputazione di invio e quindi sulla consegnabilità dell'email nella inbox piuttosto che nella posta indesiderata quindi il messaggio è attenzione ai contatti che inseriamo gli airbounds impattano sulla reputazione di invio quindi sulla consegnabilità dell'email un altro messaggio è che la piattaforma vi consente di tenere pulite le liste e attenzione che pulire le liste non significa caricare il database fare l'invio e farsi pulire la lista dalla console sarebbe troppo semplice oltre che pericoloso l'idea l'idea è quella di sapere esattamente che cosa stiamo andando a caricare in console sapere esattamente chi c'è dentro quella lista contatti chi sono quelle persone se hanno dato il consenso se vogliono ricevere quella tipologia di comunicazione e del resto conoscere bene una lista di contatti significa aumentare il tasso di apertura significa aumentare il tasso di click significa aumentare il tasso di conversione questo per farlo molto breve una cosa molto importante anche in questo caso per diminuire il tasso di bounce rate è quello di impostare i form sul sito web in double opt-in o comunque impostare l'iscrizione ai vostri siti nel caso ad esempio in cui si tratti di un e-commerce di impostarlo in double opt-in cioè l'utente deve sempre ricevere un'email di conferma questo perché il double opt-in è l'unica modalità che vi dà la certezza che dietro l'email ci sia un utente reale e che dietro l'utente ci sia un'email reale che viene controllata e quindi è esistente allora statistiche di campagna disiscrizioni e segnalazioni spam allora che cos'è una disiscrizione e che cos'è una segnalazione spam allora una disiscrizione è quando un utente utilizza all'interno delle e-mail il pulsante apposito il pulsante disiscriviti o unsubscribe è un pulsante che viene gestito automaticamente dalle moderne piattaforme di e-mail marketing e quindi l'utente senza necessità di fare un'altra azione viene automaticamente disiscritto dalle liste e quello è un modo ed è la best practice nel senso che ormai tutte le piattaforme non consentono di far uscire l'email senza link di disiscrizione anche se un altro modo sarebbe quello di farsi iscrivere dall'utente nel caso in cui volesse essere disiscritto però diciamo che quella non è best practice che cos'è invece una segnalazione spam una segnalazione spam è una segnalazione che l'utente fa mediante il client di posta cioè io sono un utente gmail gmail mi dà la possibilità di segnalare con un bottone che quell'email è spam ora quel messaggio per prima cosa arriva a gmail così gmail sa che l'email ricevuta da un certo utente è stata etichettata come spam da 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 un altro utente cioè l'utente riceve l'email la segnala come spam il messaggio arriva a google google che ha questa tecnologia attivata che si chiama feedback loop non solo diciamo comincerà a consegnare l'email di quel mittente nella posta indesiderata ma automaticamente manda un messaggio anche al mittente di quell'email dicendogli guarda che tizio ti ha etichettato come spam ora è una tecnologia questa molto interessante il feedback loop perché perché a noi come piattaforma ci consente di gestire automaticamente le segnalazioni spam purtroppo è una tecnologia che non hanno tutti quindi per esempio in italia ce l'ha solo libero all'estero ce l'ha yahoo e gmail però moltissimi provider di posta libero c'è tiscali non so fastweb non ce l'hanno questa funzionalità quindi semplicemente quando un utente vuole segnalare vi spam probabilmente non lo saprete mai magari il messaggio arriva a fastweb cioè segnalano l'email ma poi non c'è questa tecnologia del feedback loop per cui anche noi che siamo stati i mittenti dell'email riceviamo il fatto che quell'utente ha segnalato spam quindi occhio che se ricevete delle segnalazioni spam probabilmente sono sottostimate rispetto a quelle reali cioè rispetto agli utenti che vi avrebbero segnalato come spam perché è importante tenere sotto controllo le disiscrizioni e le segnalazioni spam ancora per la terza volta disiscrizioni e segnalazioni spam vanno ad impattare sulla reputazione di invio e quindi sulla consegnabilità delle email quindi il nostro obiettivo qual è? il nostro obiettivo è quello di minimizzare le disiscrizioni minimizzare le disiscrizioni significa avere all'interno della lista utenti che hanno dato il consenso a ricevere comunicazioni promozionali e che appunto sono interessati a ricevere le nostre comunicazioni qui c'è diciamo un punto importante che mi preme diciamo ricordare il fatto che non ci si preoccupi mai diciamo del tasso di disiscrizione invece è un problema reale perché se io avessi una lista di 20.000 contatti e spedissi una volta a settimana ora faccio il caso estremo ho una lista di 20.000 contatti spedisco una volta a settimana ogni volta che spedisco si disiscrivono mille persone questo significa che alla fine del primo mese io ho 4.000 persone in meno all'interno del database ok? allora magari quelle persone non si volevano disiscrivere però c'è un problema di pressione di comunicazione cioè il fatto che ci siano molte disiscrizioni dalle nostre newsletter può voler dire che probabilmente la pressione il numero di email che stiamo inviando sono troppe ora se il numero di email che inviamo sono troppe questo ha un impatto primo sulla reputazione dell'azienda perché venite etichettati come come spammer o comunque come persone che stanno infastidendo o che stanno inondando la casella di posta di email non richieste e secondo voi avete anche un problema relativo al database che piano piano va a diciamo ad assottigliarsi ok? quindi è importante quando iniziate a fare attività capire se ci sono utenti che si sono disiscritti perché si sono disiscritti soprattutto se è un numero molto alto se è un numero molto basso come anche le segnalazioni spam è fisiologico quindi a volte gli utenti cliccano per errore a volte si sono iscritti alla newsletter ed effettivamente si vogliono disiscrivere perché non vogliono più ricevere comunicazioni però sicuramente è un certo tasso di disiscrizione fisiologico preoccupatevi quando appunto il tasso di disiscrizione diventa molto molto alto allora unica cosa una cosa in più che volevo dire su questa slide è come tenere a bada le disiscrizioni allora se stiamo facendo attività su un database che conosciamo che ci ha dato il consenso che è comunque abituato a ricevere le nostre comunicazioni ovviamente il modo di diminuire il rischio di segnalazioni spam e disiscrizioni è quello di inviare contenuti rilevanti e soprattutto di mettere ben in chiaro il link di disiscrizione questo perché comunque l'utente lo deve trovare facilmente e viene gestito automaticamente dalla console quindi l'utente la volta dopo non verrà raggiunto dalle vostre comunicazioni quindi voi avrete sempre meno disiscrizioni un'altra cosa importante è se gestite il permission marketing di farlo in maniera consona quindi se fate attività su delle liste non so avete volete proporre la vostra proposta ad un certo settore tramite i siti web avete recuperato le email di quel settore e gli potete inviare una comunicazione ecco quella è una comunicazione non richiesta questo non significa che voi non potete mandare un messaggio di presentazione voi potete tranquillamente presentare la vostra azienda però deve essere chiaro nell'email che quell'email è un'email di presentazione che volete presentare la vostra realtà che reputate che l'azienda in questione potrebbe essere interessata ai vostri prodotti e che quindi quell'attività si deve intendere come un'attività di permission marketing e che l'utente ha sempre il diritto di disiscriversi con il link di disiscrizione ecco questo per essere estremamente trasparenti ed estremamente chiari è possibile fare un'attività di questo tipo sicuramente non potete raccogliere indirizzi in maniera indiscriminata da internet e inviare comunicazioni promozionali perché per quel tipo di comunicazione serve il consenso esplicito dell'utente finale quindi provochereste più danni che benefici passiamo alle statistiche di lista le più importanti sono l'open rate esattamente come abbiamo visto per le statistiche di campagna le preferenze degli iscritti il trend di iscrizione e disiscrizione e le statistiche per dispositivo allora per quanto riguarda per quanto riguarda l'open rate quindi il tasto di apertura sulle email recapitate allora una cosa è guardarlo a livello di campagna cioè io sulla singola campagna posso dire benissimo me l'hanno aperta il 40% degli utenti era un email molto interessante l'oggetto era particolarmente ingaggiante il prodotto che vendo è molto interessante per il target a cui mi rivolgo quindi ci sta che abbia avuto un tasto di apertura così alto per la lista va fatto un discorso a parte perché le statistiche di lista si creano cioè sono delle statistiche che vengono create a partire da un'accumulata di tutte le campagne che abbiamo fatto su quella lista inoltre c'è un tema cioè spesso inviamo su più liste contemporaneamente quindi se guardassimo solo le campagne non ci renderemmo conto dell'effettivo tasso di apertura di ciascuna delle liste a cui inviamo quindi è importante andare a vedere e andare ad analizzare l'interno di ogni lista allora l'open rate di una lista determina l'interesse di un segmento di utenti rispetto ad un altro se io la stessa campagna la invio a due liste e una lista mi apre al 15% e una lista mi apre al 40% evidentemente evidentemente c'è una lista che è molto in target per quella tipologia di prodotto e l'altra lista probabilmente no anzi magari scopro che del 15% di aperture la maggior parte si sono disiscritti beh andare ad analizzare le statistiche di lista mi permette di dire benissimo su questa lista non posso più inviare quella tipologia di comunicazione ricordiamoci sempre che il tasso di attività di una lista impatta sulla reputazione di invio quindi se io scopro che una certa lista è molto più attiva rispetto ad altre liste ad esempio ho una lista che apre al 41% qui nelle statistiche vedo che la prima apre al 24% la seconda apre al 45% beh per aumentare la mia reputazione di invio probabilmente è il caso che per un periodo provo a fare comunicazione solo sulle liste che aprono di più perché questo mi riabilita agli occhi del provider di posta allora un altro dato molto importante è capire quali sono i giorni in cui gli utenti aprono e cliccano le mie campagne quindi diciamo che dopo un po' che faccio attività ho inviato varie volte durante la settimana a volte invio di lunedì a volte invio di martedì a volte invio di venerdì la mattina a volte invio di giovedì al pomeriggio ecco la console for them è in grado di dirti quali sono i giorni e gli orari di maggiore apertura perché è importante perché la prossima volta che facciamo una campagna mi vado a vedere queste statistiche che tra parentesi ha senso guardare dopo un po' di campagne che facciamo vado a vedere queste statistiche e questa statistica mi dice per esempio che l'orario perfetto per inviare è il martedì alle 14 del pomeriggio ok quindi è importante andare ad analizzare questi dati per singola lista in modo da capire quando è il momento migliore per massimizzare le aperture magari il 90% della lista sono utenti che si mettono al computer diciamo hanno la pausa pranzo dall'1 alle 2 alle 2 si rimettono sul computer scopro che il giorno migliore è proprio il martedì alle 14 perché magari all'interno della mia lista la maggior parte degli utenti il martedì alle 14 hanno tempo di smaltire le email è un esempio stupido però aiuta a capire qual è il ragionamento comunque sapendo qual è il giorno e l'ora di maggiore apertura sappiamo anche qual è il giorno in cui dobbiamo inviare le nostre comunicazioni statistiche di lista preferenze degli iscritti allora come ho detto prima in realtà i click non servono solo a ottenere un'azione da parte dell'utente comprare o finire sul nostro sito web o visitare una pagina ma servono anche a noi marketer per desumere le preferenze degli iscritti vi invito a vedere il grafico qui a destra sono le preferenze dei tuoi iscritti in base ai click che cosa ho fatto semplicemente io ho un e-commerce in cui tratto articoli di elettroniche a giardinaggio e libri e ho cominciato ad attaccare delle etichette ai link delle mie campagne ad esempio tutti i link che portavano alle promozioni dei prodotti di libreria sono etichettate con il tag l'etichetta libri tutti i link contenuti all'interno delle mie campagne promozionali che portano a prodotti di giardinaggio sono etichettati con l'etichetta giardinaggio e così per elettronica che cosa succede? succede che dopo un po' di campagne che invio la piattaforma è in grado di dirmi guarda che sul totale dei click che sono stati fatti sulle tue campagne il 42% delle volte gli utenti hanno cliccato sul link elettronica inoltre la console mi dice guarda che di questo 42% il 10% sono utenti che cliccano solo ed esclusivamente su elettronica cioè io ho una parte del database che è interessato solo ad una sezione delle mie offerte allora perché continuo di inviargli sempre le stesse email perché continuo a parlargli di libri e anche di giardinaggio se sono utenti che comprano solo elettronica ecco se non avessi uno strumento di questo tipo che in 4dem si chiama tag comportamentali non potrei scoprire queste cose e avendo questo strumento che mi permette di attaccare delle etichette ai link della campagna questo strumento mi permette di analizzare i clic in aggregato e per argomento e quindi mi permette di fare dei ragionamenti circa gli invii successivi una cosa importante di questo strumento è che bisogna definire gli obiettivi in primis cioè qual è l'obiettivo che vogliamo raggiungere vogliamo capire sulle nostre email promozionali se gli utenti sono più interessati ai prodotti di un certo tipo piuttosto che a elettronica piuttosto che a libri perché è importante definire a priori la strategia perché essendo uno strumento che si basa sui dati il rischio è quello di andare ad inserire delle variabili in un momento successivo variabili che per forza di cose avrebbero dei numeri diversi rispetto allo storico ad esempio se io ora creassi il tag compact disk per dire perché sono interessato a capire quelli che cliccano sui link compact disk per forza di cose la numerica di clic è inferiore rispetto ai tag e alle campagne che già ha inviato e quindi il dato potrebbe essere forviante quindi l'importante è utilizzare questo strumento definendo a priori la strategia e quindi creando poi i tag e analizzandoli statistiche di lista qui andiamo molto veloci perché tanto è una cosa che abbiamo già trattato prima il trend delle iscrizioni e disiscrizioni ci aiuta il grafico relativamente al trend di iscrizioni e disiscrizioni ci aiuta a capire se innanzitutto stiamo esercitando la giusta pressione di comunicazione se inviamo un email al mese e vediamo che il tasso di disiscrizione è molto basso probabilmente stiamo lavorando bene se a un certo punto cominciamo ad inviare 4 email al mese una settimana questo grafico probabilmente è molto diverso vedremo dei picchi molto alti appunto diciamo della linea rossa che è la linea delle disiscrizioni con tutti i ragionamenti che abbiamo fatto prima quindi in realtà è controproducente perché va ad impattare sulla dimensione del database gli utenti ci hanno negato il consenso a fare le future comunicazioni e così via allora andiamo avanti allora statistiche per dispositivo allora questa statistica possiamo guardarla diciamo è un nice to have quello che in marketing si chiama nice to have cioè è carino sapere se c'è una parte del nostro database che ci apre da mobile sicuramente è importante perché ad esempio nel caso estremo in cui scopriamo che gli utenti all'80% controllano le nostre email da mobile probabilmente è il caso di andare ad ottimizzare il layout dell'email per essere più fruibile oppure per inserire bottoni tipo la possibilità di mandare un messaggio direttamente su whatsapp che è una funzionalità all'interno di fordem la possibilità di creare un bottone richiamami subito in modo che l'utente clicchi e automaticamente parta la chiamata dal telefonino ecco insomma è comunque importante sapere se ci sono una parte di utenti o degli utenti che aprono l'email da dispositivi diversi dal computer allora nelle statistiche di lista di fordem troviamo anche le statistiche per dominio allora questo qui è uno strumento diciamo importante si presta sicuramente a miglioramenti però all'interno delle statistiche di lista fordem vi dice qual è la distribuzione dei domini all'interno della vostra lista in questo caso per esempio il 23% dei contatti di quella lista sono a dominio gmail.com il 5% sono a dominio libero.it e così via questo dato di per sé non è importante ma lo possiamo mettere in rapporto alle aperture che troviamo nella medesima pagina allora se scopriamo che la maggior parte del nostro database come in questo caso è diciamo di indirizzi gmail ci aspettiamo diciamo per buon senso che anche la maggior parte delle aperture venga da indirizzi gmail e infatti così è il 21% delle aperture complessive della lista viene da indirizzi gmail però potrebbe capitare che ad un certo punto scopriamo che il nostro database al 23% è composto da indirizzi gmail però gmail sviluppa solo il 2% delle aperture lì mi si accende il campanello evidentemente ho un problema di deliverability cioè vuol dire che in qualche modo o non riesco a consegnare le mie email su gmail oppure magari perché ho fatto attività in maniera sporca in passato gmail ormai le mie email le consegna nella posta indesiderata e quindi gli utenti non le vedono più e neanche le aprono più ecco quindi da questo punto di vista questa schermata ci aiuta a tenere sotto controllo anche la deliverability sui vari provider di posta allora opportunità di sfruttamento dei dati statistici allora fino ad ora abbiamo visto tutte le tipologie di dati che la console restituisce come li sfruttiamo materialmente questi dati cioè li possiamo vedere e dire ah benissimo questa è la situazione le mie liste sono così le aperture sono così no in realtà Fordham ti permette di lavorare su questi dati in particolare le statistiche sono importanti perché ti consentono ad esempio di tenere pulite le liste nel momento in cui faccio il primo invio sulla lista e scopro che ho il 10% di indirizzi non esistenti e ci sono tantissimi disiscritti mi devo fare delle domande su quella lista come l'ho caricata quali iscritti ci sono dentro quali sono le fonti perché gli utenti si disiscrivono forse ho preso delle liste sbagliate ho preso dei database errati che non hanno dato il consenso ecco in quel senso Fordham ti permette di diciamo intraprendere delle azioni possibilità di segmentare il target in base a click aperture e preferenze cioè non solo Fordham mi dice che ci sono utenti che aprono e cliccano e mi dice su cosa cliccano e quindi quali sono gli interessi degli utenti se sono più interessati ad elettronica o libri o a giardinaggio ma mi permette anche di lavorare questi dati mi permette di andare a creare all'interno delle liste ad esempio i segmenti di coloro che hanno aperto una determinata campagna perché dovrei creare un segmento di coloro che hanno aperto una determinata campagna ad esempio perché chi apre una campagna è sicuramente più interessato di qualcuno che non la apre e quindi ad esempio potrei crearmi il segmento di chi ha aperto una certa campagna per poter gestire un'email di follow up molto specifica sui contenuti di quella campagna ancora meglio potrei crearmi un segmento di coloro che hanno cliccato all'interno di un'email su un link specifico magari il link che porta alle promozioni di libri perché voglio fare un follow up su quelle persone ecco Fordham mi permette diciamo velocemente di crearmi un segmento di coloro che hanno cliccato su questi link in particolare perché in questo modo posso andare a creare una campagna ancora più targetizzata una campagna in cui parlo solo di libri per esempio ok infine appunto di nuovo i dati delle statistiche possono essere sfruttati per anticipare eventuali problematiche se costantemente nel tempo la mia lista si alimenta in continuazione perché io continuo a mettere dentro contatti e costantemente ho segnalazioni spam costantemente ho disiscrizioni e la lista è piena di indirizzi inesistenti allora guardare le statistiche mi aiuta a dire benissimo abbiamo un problema se quando carichiamo i contatti moltissimi risultano inesistenti probabilmente abbiamo un problema sulle fonti di acquisizione se quando carichiamo i contatti ci sono il 20% di disiscritti probabilmente gli utenti che stiamo raccogliendo non hanno dato il consenso a ricevere comunicazioni ecco in quel senso guardare le statistiche ti aiuta anche a anticipare eventuali problematiche io mi sono dilungato tantissimo e quindi in realtà diciamo il webinar è finito lascerei spazio alle vostre domande e risposte potete scrivere nella sezione Q&A io sono qui raccoglierò tutte le vostre domande e poi risponderò alle domande tutte insieme considerate che non vi preoccupate nel senso se dovete andare via o non riesco a rispondere a tutto perché siete comunque liberi di chiamarci di telefonarci di scriverci ai contatti che trovate sul sito web potete scrivere tranquillamente su commercialechiocciola4dem.it o chiamarci comunque ai contatti che trovate sul sito web quindi io vi ringrazio aspetto le vostre domande e rimango qui in linea grazie a tutti 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 un tasso fisso di disiscrizione del 5%, perché la prima volta ci può stare. Magari sono contatti vecchi che non vogliono più ricevere le mie comunicazioni. La seconda volta anche ci può stare, perché magari alcuni utenti hanno ricevuto l'email la prima volta, ma non l'hanno vista. Ricevono la seconda email, la vedono e si vogliono disiscrivere. Quindi in linea di massima, con il tempo, il tasso di disiscrizione va a diminuire. Chiaro che se alimenti il database con contatti nuovi che non ti hanno dato il consenso a ricevere comunicazioni e tutte le volte hai un tasso di disiscrizione del 5%, significa che i contatti che stai inserendo all'interno della lista probabilmente non sono inseriti in modo corretto, cioè non ti hanno dato l'autorizzazione o comunque non sono interessati a ricevere le tue comunicazioni. Magari ti hanno fatto una richiesta sul sito, li hai inseriti all'interno della lista newsletter, ma in realtà non hanno dato l'autorizzazione a ricevere la newsletter e quindi si disiscrivono. Quindi la mia risposta è un tasso di disiscrizione fisiologico, lo puoi considerare intorno al 2%, il tasso di disiscrizione va a diminuire nel corso del tempo, quindi vuol dire che dopo un po' di campagne che mandi probabilmente si avvicinerà allo zero. Preoccupati quando hai un tasso di disiscrizione superiore al 5%, soprattutto quando il tasso di disiscrizione rimane fisso o comunque rimane alto su ogni invio che fai. Allora, vediamo un'altra domanda. Allora, un attimino che sto bisticciando. Allora, Alida ci chiede dove trovo le preferenze dei tuoi iscritti? Allora, Alida ti riferisce alla funzionalità che in console è denominata tag comportamentale. Lo trovi o accendendo al menu di sinistra, quindi entri in console, nella dashboard, nella colonna, quella di sinistra, in cui hai i bottoni nuova lista, nuova campagna, al fondo troverai anche la voce tag comportamentali. Da quella sezione potrai andare a creare queste famose etichette che ti permettono di tracciare i link della campagna. Per poterla utilizzare, poi, quando hai creato la tua campagna, dovrai andare ad associare i link della campagna alle etichette. Trovi comunque il tutorial all'interno del centro di formazione. È ovvio che se guardi questi dati, in questo momento i grafici sono a zero, cioè ti restituiscono un valore di zero perché non hai mai utilizzato questa funzionalità. Allora, Sergio Lovato mi dice ancora la nostra lista su Fordem è di circa 55.000 contatti e le aperture del 23-24%. Allora, Sergio, e qui c'è un... Allora, non mi è chiara la tua domanda, però provo ad interpretare. Secondo me mi stai chiedendo se è un numero alto o un numero basso. È un numero medio, come ho detto all'inizio, cioè un tasso medio di apertura del mercato si attesta intorno al 20%, a prescindere che tu faccia comunicazione newsletter, comunicazione promozionale e così via. Certo che 55.000 contatti sono una bella lista. Magari potresti scoprire se hai un tasso fisso del 24-25%, andando ad analizzare le statistiche potresti scoprire che quelli che ti aprono sono sempre gli stessi. A quel punto la domanda che mi viene è che senso ha continuare ad inviare le comunicazioni anche sulla parte del database che non ti apre? E un'altra domanda che mi viene è perché c'è una parte del database che non mi apre? Siccome la console, comunque, diciamo, a livello di profilazione, la console ti consente di creare le profilazioni di coloro che hanno aperto, di coloro che non hanno mai aperto, a quel punto, secondo me, potresti fare uno studio per capire chi sono queste persone che non ti aprono mai e soprattutto cercare, diciamo, intraprendere una strategia di riattivazione. Magari scopri che sono persone che non sono interessate alle tue solite newsletter, quanto magari sono interessati, in realtà, a ricevere altre tipologie di comunicazione. Occhio che non è detto che, appunto, quel 25% siano sempre le stesse persone. Magari ci sono persone che a volte ti aprono, a volte no, ci sono persone che ti aprono sempre, persone che non ti aprono mai. Quindi, ecco, creare delle segmentazioni all'interno del database per capire chi è che ti apre sempre, chi è che non apre mai, chi è che apre solo qualche volta è fondamentale, poi, per andare a fare delle attività di riattivazione del database. Attività di riattivazione del database che può essere anche, molto banalmente, inviare un'email a chi non ti ha mai aperto per chiedere se effettivamente non sono più interessati a ricevere le comunicazioni. A quel punto può gestirla, diciamo, in modo tale che gli utenti che sono ancora interessati cliccheranno su un bottone o si iscrivono da un'altra parte, o se non sono più interessati ti daranno un riscontro dicendo mi cancellami dalla lista. Allora, vediamo se ci sono altre domande. Ok, non ci sono, non mi sembra che ci siano altre domande. Allora, ok, non ci sono altre domande. Allora, io vi ringrazio di essere stati con me, spero che il webinar sia stato interessante. So che molte cose erano magari scontate per alcuni di voi, però diciamo che quando si fa attività di mail marketing è sempre meglio ripetere, ripetita you want. Vi lascio con la slide relativa ai nostri contatti. Se non avete ancora un account for them, potete aprirne uno gratuito per provare la console dal nostro sito web fordem.it slash freemium o se avete bisogno di informazioni o di una consulenza, tranquillamente potete contattarci sul commerciale di Occiola o al numero di cellulare. Questi contatti li trovate anche sul sito web. Ricordatevi, se non l'avete già fatto, di iscrivervi alla newsletter di fordem per ricevere tutte le nostre novità e per ricevere anche gli aggiornamenti relativamente ai nuovi webinar che verranno trasmessi. Vi ringrazio e vi auguro buona giornata.